Diego Martelli e io siamo incontrate a Lucignano, a una decina di chilometri dal centro di Civitella del Tronto, una zona davvero impervia. Vedete alle mie spalle il casolare dove questa notte è avvenuta la tragedia, dove questo uomo avrebbe il condizionale d'obbligo, perché le indagini dei carabinieri sono in corso, tentato di uccidere la moglie e i quattro figli, cospergendo probabilmente l'abitazione di benzina, comunque di un liquido infiammabile e dando fuoco alla casa. Ad avere la peggio però è stato proprio lui, questo 47enne albanese, allevatore che è rimasto senza vita. A dare l'allarme è stato uno dei figli, il ventenne che tra l'altro ha tratto in salvo, ha portato via dal casolare, dunque dalle fiamme i fratellini di 19, 17 e 5 anni, la madre di 37 anni. Il ventenne poi è rientrato all'interno del casolare per cercare di salvare anche il padre, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118, i vigili del fuoco, che hanno lavorato non poco per spegnere le fiamme, perché come potete vedere la zona è davvero impervia. E poi i carabinieri di Tortoreto, di Civitella del Tronto e di Alba Adriatica, che stanno cercando naturalmente di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Il PM di turno, il sostituto Francesca Zani, ha disposto naturalmente l'autopsia sul corpo del 47enne. In base a una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, la situazione nella famiglia era attesa da tempo. L'uomo minacciava da tempo la moglie. Ieri sera rientrato in casa avrebbe cosparso di liquido infiammabile, probabilmente benzina, un divano o comunque un altro oggetto, dandogli fuoco con l'intento di uccidere tutta la famiglia. A portare in salvo, come ho detto prima, sarebbe stato i più piccoli, i fratellini più piccoli, sarebbe stato il figlio ventenne. Soccorsi la donna e i figli da parte del 118 sono stati trasferiti all'ospedale di Sant'Omero. C'è da dire che la donna aveva problemi respiratori, i figli stanno bene, mentre per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ora si attende l'autopsia sul corpo di questo cittadino albanese di 47 anni allevatore. Cosa dire? Abbiamo intervistato, e tra breve ascolteremo le interviste, il sindaco di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, che ci ha detto che non conosceva personalmente la famiglia, ma abitava qui da vent'anni. A quanto pare si era perfettamente integrata, non si avevano notizie di dissapori, gli assistenti sociali non erano mai intervenuti, i figli sono dei bravissimi ragazzi che si sono integrati perfettamente con la comunità degli altri loro coetanei. Insomma, anche c'è stata incredulità e c'è stato sgomento da parte del sindaco che con gli altri amministratori hanno dovuto lavorare non poco, sono intervenuti anche loro, il resto della famiglia è stato portato in una casa protetta. Sindaco, questa tragedia familiare che ha sconvolto tutta la comunità? Sì, purtroppo questa notte c'è stata questa tragedia che ha sconvolto la comunità e ha sconvolto un'intera famiglia. Intorno a luna di notte è stato acceso un signore di circa 47 anni, è acceso un fuoco nell'abitazione, probabilmente con l'intento di appunto dare fuoco alle abitazioni, si è sviluppato un ruogo, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Teramo, i carabinieri e purtroppo l'uomo è deceduto, mentre i familiari, la famiglia era composta da una moglie e quattro figli, si sono messi al riparo, sono stati portati poi per i controlli e gli accertamenti all'ospedale ma già sono stati dimessi. Le cronache parlano della volontà, ma questo è tutto da appurare, stanno indagando per questo i carabinieri dell'uomo a quanto pare di fare del male ai propri familiari. Sì, dalle prime ricostruzioni emergerebbe appunto questa dinamica, però è una situazione molto delicata, quindi credo che le indagini vadano condotte in maniera approfondita, ci sarà l'autopsia dell'uomo che verificherà le cause del decesso e quindi poi alla fine gli investigatori faranno, ricostruiranno quello che è accaduto. Che tipo di famiglia era? La conoscevate? Guardi, io personalmente non la conoscevo prima di questo fatto, ovviamente mi sono informata, è una famiglia di origine albanese che risiede qui da circa 20 anni, sulla quale non si erano mai registrati problematiche di ordine economico, sociale, non erano state seguite dai servizi sociali e quindi diciamo una famiglia come tante altre. L'uomo lavorava? L'uomo aveva, allevava degli animali, aveva un allevamento di animali e poi, che io sappia, faceva il muratore, però anche queste sono notizie che stiamo valutando in queste ore perché non le sappiamo. Sempre dalle prime indiscrezioni pare ci siano state dei dissapori, però c'erano dei dissapori tra l'uomo e il resto della famiglia, questo vi risulta? Guardi, questo ci risulta da questa mattina, da quando abbiamo assunto appunto informazioni, ma non so poi le entità di questi dissapori, se sono dissapori appunto di una famiglia normale oppure più importanti da questo punto di vista, però mi pare strano che appunto i servizi sociali non siano, ci sono quattro ragazzi, tutti quanti dicono che questi quattro ragazzi sono splendidi ragazzi, ragazzi che si sono distinti a scuola, sono brave persone, quindi non saprei dirle su questo. Sindaco, ora quale sarà il ruolo del comune? Beh, noi siamo intervenuti già immediatamente questa mattina, siamo andati subito dopo le dimissioni dei ragazzi e della mamma a parlare con loro, li abbiamo collocati in una struttura protetta, abbiamo attivato i servizi sociali per la presa in carica del caso, abbiamo chiesto ai servizi sociali di avere ovviamente l'attenzione necessaria con i minori, quindi attivare anche i canali di aiuto psicologico qualora se ne ritenesse la necessità, quindi in queste prime ore il nostro pensiero ovviamente è quello di tutelare i bambini, la signora e poi ovviamente siamo in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti. Per quello che ci può dire, qual è stata la prima cosa che vi hanno detto, quando vi hanno visti? Beh, veramente hanno grandi difficoltà a parlare, la signora non riusciva a parlare, piange e c'è stato anche un rispetto da parte nostra nel non forzare una situazione che evidentemente richiedeva in quel momento rispetto. La comunità di Civitale del Tronto come ha preso questa notizia? Ma ripeto, con grande sgomento, con tristezza, perché i quattro ragazzi, ma anche loro, i signori, insomma si erano integrati bene nella comunità, i ragazzi sono andati a scuola nelle nostre scuole, quindi hanno amici qui in loco, brave persone, bravi ragazzi, quindi con tristezza. Grazie a tutti.